Ancora un'ultima ora stretta per l'evasione fiscale. Dallo scorso 1 luglio sono entrati in vigore i nuovi limiti dei pagamenti in contanti. Dagli attuali 3.000 euro si è passati infatti a 2.000, per poi scendere ancora a 1.000 dal prossimo 1 gennaio 2022. Chi non rispetterà le nuove soglie sarà soggetto a multe molto salate. Il cui importo potrebbe arrivare addirittura sino a 50.000 euro per ogni singola operazione. Ma vediamo nel dettaglio cosa prevede il nuovo decreto collegato alla manovra di bilancio, che oltre a contrastare l'evasione fiscale mira ad incentivare la diffusione dei pagamenti elettronici. L'Italia infatti è 26esima nella graduatoria della Commissione europea sull'utilizzo dei servizi internet e 23esima in Europa. Secondo quanto previsto si potrà pagare in contanti solo fino a 1.999 euro. Dai 2.000 in su invece sarà obbligatorio utilizzare uno strumento tracciabile come bonifici, assegni e carte di credito. Il limite rimarrà sempre fino al 31 dicembre 2021. Mentre dal 1 gennaio 2021 scatterà una nuova stretta. Da 2.000 si passerà a 1.000 euro, pagamento consentito sino a 999 euro. Il tetto è valido sia perché effettua il pagamento che per chi lo riceve coinvolge anche prestiti e donazioni e trasferimenti di denaro all'interno della famiglia. Esclusi dall'obbligo invece i versamenti e i prelievi sui conti correnti e i pagamenti rateizzati in contanti. Chi supererà i nuovi libidi sui contanti andrà incontro a molte salate. Entro i 250.000 euro la sanzione prevista è compresa tra 2.000 e 50.000 euro. Oltre i 250.000 euro si va dai 15.000 ai 250.000 euro. Per i professionisti soggetti all'obbligo di segnalazione la multa andrà dai 3.000 ai 15.000 euro.